Quello posto oggi è un punto fermo per l'idea di una nuova classe politica realmente capace di combattere la criminalità organizzata. Secondo il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, il Consiglio regionale di ieri ha segnato un momento storico nel contrasto alle mafie. A Palazzo Campanella, infatti, sono stati trattati i temi della legalità in una seduta voluta fortemente dal Presidente del Consiglio, Francesco Talarico, e da quello della Commissione regionale antimafia Salvatore Magarò e nel corso della quale è stato approvato un decalogo di provvedimenti, leggi e mozioni contro la criminalità organizzata. Tra questi una proposta di legge ed iniziativa dell'Aggiunta che prevede aiuti economici per gli imprenditori che denunciano le cosche, misure per la legalità e la trasparenza dei finanziamenti regionali, agevolazioni per i collaboratori di giustizia, oltre all'Agenzia per i beni confiscati alle mafie in Calabria. Nel suo intervento Scopeliti ha indicato la via dei fatti concreti per colpire gli interessi della criminalità organizzata, ha ammesso la possibilità di sporadici contatti con la sfera politica, ma ha puntato l'indice sulla borghesia mafiosa composta da imprenditorialità corrotta e pubblica amministrazione come vero male della Calabria. La mia idea di riformare la legge elettorale regionale va in questa direzione, ha detto il Governatore calabrese, che ha aggiunto che le lobby clientelari e mafiose saranno colpite anche dall'imminente riforma della sanità calabrese. La criminalità organizzata, ha anche detto Scopeliti, si combatte con scelte forti. La battaglia per la legalità è un segnale per i giovani e oggi in quest'Aula abbiamo messo dei punti fermi. Noi ci adopereremo con gli strumenti di cui siamo dotati per innescare questi nuovi meccanismi, ha concluso il Presidente Scopeliti, ma se tutte le istituzioni faranno la propria parte potremmo vincere questa battaglia e magari non ci sarà neanche bisogno di pensare a un cambiamento della legge elettorale.